Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come fuorigioco, come funziona e cosa cambia con le nuove regole. In vista della nuova stagione, l'IFAB, l'ente che determina il regolamento del gioco del calcio, ha introdotto una precisazione relativa al funzionamento della regola del fuorigioco, la n. 11 del codice. Non si tratta certo di una rivoluzione, bensì di un chiarimento rispetto al testo già diffuso e messo in pratica da anni, che tuttavia determinerà alcuni cambiamenti nell'interpretazione delle diverse situazioni di gioco, già a partire dalla serie A, dal 2022 al 2023. Punto fuorigioco, la precisazione dell'IFAB sulla distinzione tra giocata e deviazione. La novità riguarda la differenza tra deliberate play, cioè la cosiddetta giocata, e deviazione. Una distinzione essenziale, dato che la prima, se effettuata da un difendente, è tale da rimettere in gioco un attaccante che si trova oltre la linea del fuorigioco, mentre la seconda non sana la sua posizione. Per avere una giocata, secondo la regola n. 11, è necessario che il calciatore che tocca il pallone ne abbia il controllo, e pertanto la possibilità di passarlo a un compagno, ottenerne il possesso o respingerlo. Punto la precisazione introdotta dall'IFAB è finalizzata a chiarire il concetto di controllo, chiave di volta della nozione di deliberate play. Si stabilisce che si potrà parlare di giocata quando. Meno il pallone arriva da lontano e il giocatore lo vede chiaramente. Il pallone non si muoveva velocemente. Meno la direzione del pallone non era inaspettata. Il giocatore ha avuto il tempo di coordinare il movimento del proprio corpo, per esempio senza prodursi in movimenti istintivi, oppure se mosso ottenendo un contatto, controllo, del pallone limitato. Infine, si spiega come un pallone che si muove a terra è più facile da giocare di un pallone in aria. Punto nuove regole sul fuorigioco, cosa cambia? Insomma, d'ora in avanti il concetto di giocata sarà limitato a una rosa ristretta di circostanze, e pertanto le segnalazioni di fuorigioco aumenteranno. In attesa del fuorigioco semiautomatico o SAO, già introdotto dalla UEFA nella Supercoppa fra Real Madrid e Eintracht Francoforte, leggi qui come funziona, quindi, varierà l'interpretazione su casi come quello del gol di Kylian Mbappé nella finale dell'ultima Nations League, contro la Spagna. L'attaccante francese si trovava infatti oltre la linea del fuorigioco, ma la sua posizione irregolare fu sanata da un lieve tocco in spaccata di Eric Garcia, considerato deliberate play dal direttore di gara. Con la precisazione dell'Iffab, un movimento come quello del difensore del Barcellona verrebbe considerato istintivo, il suo allungamento insomma non verrebbe valutato come una giocata bensì come una deviazione. E il gol verrebbe annullato per fuorigioco. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.